Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore per completare il reparto, e tra i vari nomi sulla lista dei dirigenti quelli che spiccano su tutti sono Acerbi e Akanji. Come scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, il mister Simone Inzaghi ha ribadito la volontà della società di portare un difensore centrale come vice De Vrei, ruolo che attualmente è scoperto. Acerbi potrebbe essere un nome low cost in quanto il difensore ex Lazio è ancora svincolato e sta cercando una squadra. Ad accoglierlo ci sarebbe proprio il suo ex mister che troverebbe in lui il difensore perfetto per il modulo. Akanji invece, è ancora in combutta con il Borussia Dortmund da quale vorrebbe liberarsi prima della fine di questa stagione, lo svizzero però potrebbe arrivare solo tramite prestito con diritto di riscatto. Inzaghi, quindi, dopo aver dichiarato che non ci sarà più nessuna uscita è pronto ad allestire una rosa in grado di competere per lo scudetto. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.